Vi auguro una buona serata e una buona notte. Il messaggio di questa sera è Raiye. Lo yoga e l'esercizio fisico sono essenziali per il tuo benessere, la pace della mente e la crescita spirituale in questo momento. Ti è stato suggerito chiaramente di impegnarti nello yoga e in altre forme di esercizio fisico e questa carta ne la conferma. Il movimento fisico è essenziale per realizzare i sogni, i desideri e le intenzioni. Infonde l'energia e la vitalità necessarie per iniziare a portare a termine i progetti. Ti apre a nuove idee creative. Lo yoga purifica e allarga i chakra, consentendoti così di ascoltare le nostre indicazioni angeliche in maniera forte e chiara. Lo yoga permette inoltre a una mente caotica di placarsi, rendendola capace di meditare e di ascoltare la voce del cielo. Anche se lo yoga e l'esercizio fisico potrebbero intimidirti, ti aiuterò a semplificare le cose. Se me lo chiedi ti darò una mano a personalizzare un programma di esercizi in base ai tuoi impegni, ai tuoi interessi e al tuo livello di forma fisica. Riceverai queste indicazioni sotto forma di pensieri e sentimenti ricorrenti e attraverso informazioni sullo yoga e sull'esercizio fisico che si manifesteranno all'improvviso. So che sei una persona impegnata ma ti prometto che l'accresciuto livello di energia che sentirai dopo aver fatto esercizio fisico sarà come avere più ore a disposizione nel corso della giornata. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.